La città di Nocera Inferiore si prepara a vivere la festa del Santo Patrono San Prisco. Dopo gli anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, si riprendono dunque gli appuntamenti di tradizione, di fede e soprattutto di identità. Così vi è un ricco programma di eventi tra il calendario religioso e quello civile. Coinvolgere l'intera comunità è l'obiettivo principale, ha detto il sindaco Paolo De Maio. Quella di San Prisco è la festa di tutta la città di Nocera Inferiore. I festeggiamenti saranno aperti da una celebrazione religiosa, ma c'è grande attesa già per Andrea San Nino in concerto a Montevescovado e Anna Tatangelo in piazza Diaz. Un evento importante per noi cittadini nocerini. Riniziamo a festeggiare, dopo anni bui causati dalla pandemia, i festeggiamenti e la celebrazione del primo vescovo della diocesi di Nocera Sarno. Lo facciamo con un programma di tutto rispetto, sia civile che religioso. Introdurremo lunedì 8 alle 19.30 una funzione religiosa nella corte del palazzo di città proprio per aprire festeggiamenti religiosi a tutta la città e con l'impegno di sempre della Commissione dei festeggiamenti con l'Associazione Borgo Vescovado abbiamo realizzato anche un bel programma civile. Per la prima volta realizzeremo il concerto con Andrea San Nino in via San Prisco, nell'area di Montevescovado, nell'ottimità di Montevescovado, proprio per dare un segnale importante, un'area che in queste ore è oggetto di un intervento che stiamo delocalizzando per realizzare al più presto il progetto pilota della riqualificazione dell'area di Montevescovado, quindi un segnale importante. Per la prima volta avremo il concerto nell'area di Montevescovado. E poi il giorno seguente avremo Anna Tatangelo in piazza Diaz proprio perché per noi la festa di San Prisco deve essere la festa di tutta la città e quindi chiuderemo con un concerto importante nell'area centrale. Già negli anni passati l'impegno nostro dell'amministrazione e anche con la Commissione dei festeggiamenti e l'Associazione abbiamo già realizzato e avuto questo indirizzo. Quest'anno l'abbiamo voluto ripercorrere anche introducendo la funzione religiosa e poi con concerti a cui seguirà quello del primo maggio che a causa del meteo è stato prorogato e dovrebbe essere per il 19 maggio. Continueremo con Enzo Avitabile e i Bottari, quindi sarà un maggio dove introdurremo la stagione estiva con dei ben momenti per i nostri cittadini.